questa dico la verità è un po pesante è un po pesante è arrivata la notizia è arrivata l'ufficialità paolo di bala a partire dal primo luglio del 2022 non sarà più un giocatore della juventus perché dopo l'ultimo incontro emerso oggi si è arrivati appunto all'epilogo che il contratto di paolo di bala non verrà rinnovato e dico la verità dopo le ultime vicende sembrava una roba anche abbastanza palese sono sincero non me l'aspettavo per come soprattutto no si era emersa come era uscita la notizia d'ottobre con praticamente l'accordo trovato ma non si poteva rinnovare perché antun non poteva in quel momento cosa tra l'altro confermata dallo stesso arriva bene poi tutta stati ritera a partire da ottobre praticamente no dove ogni due per tre ci doveva essere questo incontro per definire l'incontro tra le parti prima del via real meglio farlo dopo e qui secondo me prende ancora più senso il discorso fatto da lucone toselli proprio riguardo quella notizia lì che all'ultimo era stato spostato l'incontro ovvero che se tu magari lo fai prima del via real effettivamente perché in un momento così tanto delicato tu non vuoi altro che effettivamente concretizzare questo rinnovo di contratto nel momento in cui magari decidi di farlo subito dopo di fatto come è capitato perché doveva essere meno di una settimana fa mentre invece ci si è ridotti a fare l'incontro oggi e probabilmente perché un qualcosina era cambiato no l'idea di magari rinnovare di bala non era poi più di tanto concreta inspiegabile da un certo punto di vista dopo tutto ciò che era successo ad ottobre accordo fatto tutto a posto tutto definito ma non si poteva per antuno poi dopo cambi idea questa non è una cosa che ho più di tanto apprezzato sono sincero perché se tu juventus decidi di non rinnovare di bala per una serie di ragioni può essere condivisibile o meno ma va accettato va accettato perché d'altronde i soldi li tiri fuori te le valutazioni le devi fare te e se per le tue valutazioni non ne vale la pena non rinnovi è lecito ci può stare per quanto non condivisibile e io per esempio non lo condivido se prima trovi l'accordo poi però piano piano cambi idea sposti incontri sì però forse meglio farlo a ribasso quando di fatto avevi promesso avevi garantito una cifra superiore lì fai anche un pochino una figura di merda poi non si sa oggi almeno in questo momento qui se sia stata la juventus proprio a non proporre nessun rinnovo o magari è stato l'entourage di di bala a rifiutare la nuova offerta della juventus quello che però è certo è che di bala non sarà più un giocatore della juventus e onestamente non doveva finire così diciamoci la verità soprattutto perché davvero da due anni a questa parte praticamente la stragrande maggioranza delle voci attorno a di bala non erano praticamente neanche più inerenti al campo ma alla situazione legata al rinnovo e tutte queste pugnete qui e questo non è bello non è bello assolutamente per nulla e soprattutto bisogna essere anche consapevoli di una cosa che nonostante tutto nonostante i vari problemi nonostante una mancanza di continuità a livello fisico che questa bene o male abbiamo sempre riconosciuto tutti quanti perché è semplicemente un dato di fatto di bala per l'ennesima volta è il miglior marcatore e il miglior assistman di questa juventus in tutte le competizioni tra l'altro penso sia il capocannoniere della serie a per quanto riguarda la juventus della champions league e insomma comunque nonostante tutto tu vai a perdere a zero un grandissimo patrimonio nonostante tutti quelli che sono i problemi che indubbiamente ci sono ed è sempre giusto riconoscere perché sono dati di fatto sono dati oggettivi sarebbe stupido non riconoscerlo allo stesso tempo però è un giocatore di un valore importantissimo e l'abbiamo sempre bene o male visto è uno che cos'è nella top 10 dei marcatori della storia della juventus ed è per questo forse che un epilogo del genere cazzo fa male fa male può essere accettato e anche però ti dico la verità l'avrei accettato più che altro in estate l'avrei accettato anche semplicemente cinque sei mesi fa non dico che adesso cazzo mi dispero mi metto a piangere smetto di guardare di tifare però il discorso è come detto prima nel momento in cui tu comunque trovi un accordo e però poi puntualmente nel giro di pochissimi mesi fai passi indietro cambi l'offerta sposti gli incontri cioè te la fa scendere parecchio cioè secondo me non è un comportamento perfetto e mi dispiace veramente tanto che sia finita così soprattutto perché è inutile negarlo paolo di vale uno di quei giocatori che ti fa innamorare del calcio è un epilogo diverso fa veramente male cazzo il numero 10 l'ennesimo numero 10 dove insomma non è che ci sia stata una gestione proprio delle migliori diciamo così vice capitano della juventus al suo centesimo golo quello che era insomma fa l'esultanza di platini pensare che no sia cambiato tutto così e soprattutto l'idea che a partire dal primo luglio non sarà più un giocatore della juventus cazzo fa male sono sincero fa fa parecchio male non me l'aspettavo un epilogo del genere anzi un anno fa ero convinto 100 per cento del rinnovo e quant'altro per quanto nell'ultimo periodo avessi avuto diversi ripensamenti per forza di cose stando a quelle che erano le notizie un epilogo del genere non dico che non me lo aspettavo perché gli ultimi mesi parlavano chiaro però cazzo fa male quando hai no la conferma che sai che bene o male una cosa potrebbe concretamente andare in quella maniera ma non sei davvero pronto a leggere quella cosa quella notizia però è arrivata è arrivata e porco giuda porco giuda è pesante dico la verità è pesante nonostante avrei potuto davvero capire tutti i punti di vista no magari della juventus tentennamenti no per per il rinnovo per le cifre soprattutto vedendo quella che è la condizione fisica legata magari ad un fattore di età ok ma non adesso non adesso 5 6 mesi fa un anno fa tanto non è che si è cambiato molto da questo punto di vista erano situazioni già tutte quante conosciute eravamo tutti quanti consapevoli di quella che fosse la sua situazione e invece niente e nulla purtroppo va accettato è assolutamente va accettato però cazzo però cazzo questa volta forse mi sarebbe piaciuto un rinvio dell'incontro no perché tutti eravamo sempre in ansia deve arrivare cazzo la notizia o rinnovo non rinnovo almeno basta adesso qualche ripensamento ce l'ho forse era meglio continuare ma vabbè niente io l'unica cosa che al momento però mi sento di dire e grazie paolo questo rimarrà sempre mi sento di dire e grazie a tutti